Teorema di Daniele Carnevali, composizione del 1993, di cui ne viene proposta una versione aggiornata per il decimo anniversario, quasi a ravvivare il successo di esecuzione e di vendite che ha avuto nel mondo bandistico e che ha permesso al compositore di essere conosciuto ed apprezzato in Europa. Il brano appartiene al genere dell'intrettenimento, ma è stato scritto con le tecniche della musica colta. Gli intervalli in ordine crescente, ripetuti più volte nell'introduzione, diventano il materiale per poi costruire le melodie e le armonie. Teorema dirige Paolo Filosi. Grazie. 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 Grazie a tutti.